L'unica cosa, sono sicuro, che ho avuto conferma anche da ANAS, che loro, il famoso fondo per emergenza, loro ce l'hanno, appena la regione Piemonte comunica la messa in sicurezza del versante, ANAS procede subito lo sgombro e il repristino, perlomeno anche fare, usare la 337 fascia oraria con una chiusura della strada, lasciandola aperta con delle fasce orarie, con guardanie e quant'altro, questo è sicuro. Per la messa in sicurezza dei versanti, voi ora avete un'idea della somma che servirà e per partire con i lavori, tecnicamente che cosa bisogna fare? Tecnicamente, come ho già detto prima, noi abbiamo fatto una richiesta alla regione Piemonte, i miei tecnici incaricati hanno fatto una richiesta sui 430 mila euro, non male la regione Piemonte ci deve sposare questa richiesta, da quanto è stata espressa dal vicepresidente della regione Piemonte, che poi è stato confermato, ieri c'è arrivato una mail in comune, che sicuramente questi fondi verranno utilizzati. A noi appena c'è la via libera a regione Piemonte noi cominciamo, è già stato immediato, abbiamo già messo sicurezza verso l'altra parte alta, difatti la ferrovia è un esempio che transita tranquillamente. Io dico, secondo me, i tempi potrebbero essere anche abbastanza stretti, si ipotizzava di tempi lunghi, però se ognuno si prende tutta la responsabilità, Anas in prima e la regione Piemonte in seconda, diciamo che nel giro di 20 giorni, ipotizzo io però, prendendo sempre quelle pinze, se dovrebbe andare tutto bene, si potrebbe ipotizzare anche l'apertura di una strada.